Era ampiamente prevista ed è arrivata, ma non tutto il Molise si è fatto trovare preparato. L'ondata di maltempo ha colpito gran parte della regione, neve fino a quote collinari. Le abbondanti precipitazioni delle scorse ore hanno causato non pochi disagi al traffico. Una vera odissea, quella iniziata nel tardo pomeriggio di ieri sulla Statale 17, tra Castelpetroso e Pettoronello del Molise. Un camion in strada senza catene è finito di traverso alla carreggiata, bloccando la circolazione nei entrambi i sensi di percorrenza. Da lì le chilometriche code rimaste immobili per oltre sei ore. Altri mezzi pesanti in panne lungo lo stesso tratto, autobus di linea costretti a fermarsi, la rabbia e il malcontento degli automobilisti. Una situazione paradossale in una regione che vuole fare del turismo invernare il suo cavallo di battaglia. Si resta paralizzati per 4 o 5 centimetri di neve su una delle statali più trafficate. La protesta monta sui social, tra i commenti anche quello del presidente dell'Ordine dei giornalisti del Molise, Vincenzo Cimino, che non ha potuto fare ritorno a casa ed è rimasto bloccato in hotel a Isernia. Scene da terzo mondo, dice. Nel traffico anche il consigliere 5 Stelle Vittorio Nola, che ha denunciato le sue difficoltà sui social. Situazione simile per la consigliera comunale di Campobasso, Alessandra Salvatore, bloccata su un pullman. Sulla statale intervenuti anche i volontari della Croce Rossa, che hanno distribuito bevande calde e hanno soccorso un bambino di soli 4 mesi. La situazione è tornata alla normalità nella notte e da questa mattina le strade sono libere. Di tanto in tanto auto ancora sommerse dalla neve, appartenenti agli sfortunati viaggiatori costretti a lasciarle. Stanchi i tanti camionisti fermi nelle zone di sosta. Quanto tempo? 5 ore. Disagi anche sulla statale 650 all'altezza del viadotto di Civitanova del Sagno. Anche in questo caso, lunghe code per via di camion in panne, si segnala qualche incidente. In Alto Molise le strade restano di agevole percorrenza. Piano neve della provincia di Isernia, promosso anche dal sindaco di Capracotta, Candido Paglione, sul tetto alto molisano caduto oltre mezzo metro di neve, senza particolari impedimenti per gli automobilisti.